Su questo bel palazzo, con questa luce meravigliosa, diamo una veloce occhiata ai costumi del gioco. Partiamo con questo qua, che è il costume classico, quello che conosciamo tutti, rosso-blu. Sia in versione normale che in versione danneggiata. Quindi, insomma, se vogliamo andare in giro per la città così spaccati completamente possiamo farlo. Non si sa mai, magari qualcuno ha il gusto un po' della distruzione. E poi c'è ovviamente il costume, quello diciamo, il nuovo costume, quello inventato da Insomniac per il gioco. Quindi potenziato anche grazie un po' ai consigli del buon dottor Octopus, di Peter. Molto figo, devo dire che il ragno bianco svolazzando in giro per la città lo aiuta a essere molto riconoscibile. Non mi dispiace in realtà. Mi faceva strano, ma piano piano, usandolo, devo dire che li voglio molto bene. Ed è comunque una variante di quello classico. Un rosso un po' più chiaro, però ci sta. Poi abbiamo il costume noir. Questo si chiama il costume avanzato, l'Advanced Suit. Il costume noir di Spider-Man noir, quindi ambientato negli anni 30, con uno Spider-Man praticamente senza poteri, più detective che altro. C'ha anche una bella pistolazza, perché negli anni 30 si poteva essere più cattivi, come ci insegna Batman. Nel film, tra l'altro, doppiato da Nicolas Cage, c'ha il cappotto lungo, c'ha il cappello da tipo cowboy, è un po' diverso, però è lui, è Spider-Man noir. Costume Scarlet Spider, ragno rosso, quindi Ben Reilly. Ben Reilly era il clone di Peter Parker, che per un po' ha creduto di essere il vero Peter Parker, e Peter ha creduto di essere lui il clone. Quando Ben Reilly è rispuntato nella vita di Spider-Man, gli ha detto, dai, non posso rubarti questo costume qua, voglio essere un ragno nuovo. Quindi andava in giro con questo costume, che poi è una felpa praticamente, con una calzamaglia rossa sotto. Poi si è evoluto e ha avuto un suo costume, che in questo gioco non c'è, ma che è bellissimo e che spero vedremo magari nel sequel. Che è molto simile a questo, però molto più articolato, quindi figo anche quello, fra l'altro. Costume Spider-Armor MK2, quindi la Spider-Armatura, la seconda, la versione, la seconda Spider-Armatura, questa è abbastanza recente, è riuscita negli ultimi anni, ed è antiproiettile. Quindi è una vera e propria armatura, che ha creato Peter quando era miliardario. C'è stato un momento in cui ha assunto il potere delle Parker Industries, perché gli sono arrivati dei soldi improvvisamente, grazie a Superior Spider-Man, cioè grazie al Dottor Octopus, che gli era entrato nella testa. Storia lunga. Quindi insomma aveva molti più soldi e questa è un'armatura che si è creato quasi subito. Questo è il costume della guerra segreta, non Secret Wars, che sarà anche il film di Avengers che vedremo, ma della guerra segreta al singolare. Cos'era successo? Nick Fury aveva mandato una serie di eroi, compreso Spider-Man, in Latveria per indagare su presunti finanziamenti di Latveria ai supercriminali americani. Li ha mandati lì in incognito e in teoria inizialmente dovevano avere dei costumi speciali, tipo questo qua, costumi disegnati apposta per quella miniserie. Poi in realtà la Marvel ha deciso di dargli i costumi classici, quindi ha mandato Peter in missione così, e questi costumi non li hanno mai indossati. Quindi ci sta che per questo gioco in realtà tu possa indossare un costume che nei fumetti poi Spider-Man non ha mai indossato, quindi particolarità. Poi abbiamo Tom Holland, ovviamente, il costume Stark, quindi creato da Tony Stark nell'MCU, questo l'ha indossato solo nell'MCU. Il costume negativo, vabbè, quando Spider-Man va nella zona negativa o viene contagiato da Mr. Negativo, diventa negativo, quindi semplicemente questo è un anti-Spider-Man, l'abbiamo visto nel gioco. Costume anti-electro, questo in realtà non l'ha usato tantissimo nei fumetti, negli anni, forse già anni 90, per affrontare Electro si è fatto questo costume di gomma, e quindi lo ha indossato. Gli è servito per affrontarlo al meglio, quando Electro era molto molto potente. Poi negli anni il costume si è rovinato, e Spider-Man non ha tutte le volte il tempo di rifarselo da capo, perché immagino fosse molto elaborato, quindi Electro deve anche affrontarlo con un costume normale, quando succede. Spider-Balordo, qua si chiama, in originale in realtà è Spider-Punk, è uno Spider-Man alternativo, viene da un mondo dove le ribellioni anni 70 inglesi non sono mai finite, quindi è uno Spider-Man Punk, non c'è molto altro da dire, però l'anno prossimo uscirà anche in Italia una miniserie di 5 numeri con lui protagonista, così sapremo un po' di più di questo Spider-Punk, quindi vabbè, è solo molto tamaro, molto punk ovviamente. Costume da Vrestler, questo è un po' un mix, assomiglia un po' al costume che lui indossa nel film di Raimi, Spider-Man, un pochino anche la versione Ultimate, simboleggia comunque il momento in cui Peter, all'inizio voleva fare soldi con il wrestling e non con, non voleva fare il supereroe, quindi questo costume è fatto un po' in casa, che poi lo ispirerà quando farà il suo costume classico, però è un po' diverso da quello del fumetto. Costume Fear Itself, Fear Itself è la saga dove praticamente hanno dovuto affrontare gli eroi Marvel, una serie di dei asgardiani, di cattivi di Asgard, fra cui anche Ela, se non sbaglio, la regina dei morti, e per affrontare queste divinità i nani di Asgard gli hanno forgiato questi bracciali, vedete, in Uru, il metallo nanico asgardiano, e hanno questi costumi speciali infusi di Uru, quindi è un costume potentissimo ovviamente, usato in quella saga per affrontare delle divinità, di fatto. Il costume stealth fa sempre parte del momento in cui era miliardario Peter e si costruiva diverse tute, questo è un costume stealth, cioè può diventare invisibile, quindi quando doveva fare delle missioni molto difficili, molto, diciamo, molto, mi serve il massimo della concentrazione, metto il costume stealth. Questa tuta, assieme a tutte le altre, poi sono sparite tutte, quando è ritornato a essere povero, Peter non poteva più utilizzarle. Questa è la Spider Armor MK3, la terza ragnoarmatura, la prima non c'è nel gioco, se non sbaglio, quella grigia, forse la vediamo dopo. Questa è la messa contro Dottor Octopus, c'era una storia che si chiamava Fino alla fine del mondo, se non sbaglio il nome era, End of the World, e ha messo questa armatura molto potente perché doveva andare a affrontare, aveva le risorse per poterlo fare, ve l'ho già detto, e quindi per affrontare Octopus e il suo piano malefico, doveva correre di qua e là per la città, affrontare Rhino, c'erano le bombe, un casino. E' molto recente anche questa storia, si è fatto questa armatura, disegnata da un italiano tra l'altro, Stefano Caselli dovrebbe essere, si non era che cattolo, era Stefano Caselli. Comunque super moderna, super armatura, un po' Power Ranger, a me non piace troppo quando Spider-Man va di armature. Spider-Man 2099, nero, cioè dark, quella scura, blu scuro appunto. Questo è Spider-Man del futuro, Miguel O'Hara, non è Peter Parker, ha dei poteri diciamo tecnologici prima che Ragneschi, lo vedremo nel prossimo film di Spider-Man, Into the Spider-Verse, quello animato, pare sarà il cattivo, perlomeno ci saranno dei dissidi perché nel trailer lo mena per bene, ed è molto figo, ha tratto anche il potere di planare, ha questa specie di mantellina che qua non c'è di ragnatela, ed è molto figo, uno dei costumi più fighi, anche se questa lucidità che gli hanno dato qua non mi piace tanto, lo preferisco più di tela, più opaco, così nei fumetti. Qui l'hanno fatto un po' lucido, quasi un'armatura, un po' futuristica. Molto più armaturoso è Tom Holland di nuovo, sempre l'MCU, questa ovviamente è la versione Infinity War, Iron Spider, cioè lui che accetta di avere il potenziamento di Tony, gli escono le braccia anche dalla schiena, tipo durante Civil War, e vabbè l'abbiamo conosciuta tutti al cinema, indossato da Tom Holland. Questo è un costume speciale disegnato apposta per il gioco, il costume Velocity, è stato disegnato apposta per il gioco, c'è stato un fumetto anche ispirato dal gioco in cui lui indossava questa armatura, il fumetto ti fa vedere fra l'altro come la crea, e non c'è nei fumetti, è stato fatto apposta per il gioco, e non è l'unica armatura fatta apposta per il gioco. Questa è la Spider Armor MK4, questa è della saga Big Time, durante il rilancio di Spider-Man, Alex Ross, disegnatore famosissimo in Marvel, ha disegnato questa nuova armatura ispirata di fatto al costume classico, non è molto diversa, quindi è un po' come se fosse il costume classico di Spider-Man, però super potenziato, quindi super d'acciaio, anche questa in realtà è nata e morta nel giro di pochi numeri, così, quando serviva per fare una copertina figa da mettere in edicola, diciamo, questo era lo scopo. Costume Spirito è una versione alternativa di Spider-Man, con dentro lo spirito della vendetta di Ghost Rider, facciamola un po' in breve, ma è questo, e fa veramente ribrezzo fra l'altro, intanto è anche pure a piedi nudi, sembrava scarnificato, anche questa non è comparsa molto nei fumetti, credo sia comparsa soprattutto nelle saghe tipo Spider-Gaddle, Eddle, questa roba qua, non ricordo particolari storie, magari poi mi ricordo male, comunque vabbè, Spirit Spider, quindi spirito della vendetta dentro al nostro Spider-Man. Spider-Man del 2099 è bianco, questo non si è visto molto nei fumetti, in realtà perché poi è tornato alla vecchia armatura, al vecchio costume. Spider-Man del 2099 ha fatto furore negli anni 90, quando è tornato qualche anno fa gli hanno dato questo nuovo costume, hanno deciso di cambiarlo, devo dire che io preferisco quello classico, ovviamente, ma la grande. Tra l'altro in Into the Spider-Verse, anzi in Across the Spider-Verse, nel trailer, sembra intravedersi anche un costume molto simile a questo, quindi magari vedremo questa versione extra del 2099. È sempre Miguel O'Hara, sempre nel futuro, un possibile Spider-Man futuro che erediterà il costume del ragno. Costume vintage, questo è praticamente una sorta di costume ispirato alle vecchissime storie, cioè è un po' un mix fra il vecchio cartone animato e effettivamente il fumetto Spider-Man, quindi con questi tratti un po' fumettosi, quando vai in giro per la città, sei veramente simile a un cartone animato o comunque è un fumetto e si chiama costume vintage, quindi dà un po' quell'effetto vintage appunto. Costume ultimo atto, questo costume compariva inizialmente in alcune visioni di Spider-Man, lui a un certo punto ha visto il futuro e ha visto che c'era lui che indossava questo costume fighissimo, disegnato da John Romita Junior, con questo giubbotto praticamente in pelle, il colletto alto e i pantaloni, quindi praticamente in borghese, con gli scarponi, i guanti. Poi si è scoperto che in realtà in questo futuro possibile sotto la maschera non c'era Peter Parker, ma Ezekiel, Ezekiel era questo personaggio misterioso con i poteri di ragno che praticamente ha tentato di fregare Peter cercando di inculcargli nella testa che i suoi poteri non arrivavano dal ragno in quanto tale perché era radioattivo, ma gli aveva dato il destino, la roba del ragno totem. Insomma, in soldoni, Ezekiel alla fine era un mezzo truffatore, poi è arrivato Morlun, che era questa specie di vampiro che si nutre di uomini ragno, va in giro negli universi a mangiare gli uomini ragno, quelli con i poteri di ragno, e in questo futuro Spider-Man era morto ed Ezekiel aveva raccolto il suo manto, diciamo, però per lungo tempo non si sapeva chi fosse, è un costume fighissimo, comunque di un futuro alternativo. Biancheria intima, quando Peter deve sbrigarsi a scappare di casa perché magari non ha fatto in tempo a cambiarsi, eccolo qua, Peter, Peter Ragno. Tra l'altro io ho delle mutande molto simili, non so se riesco a farvele vedere, secondo me sì, no, sì invece, vabbè ho queste, che sono quelle con Spider-Man sopra, molto nerd, lo so, sono un regalo, sono un regalo, non vi dico di chi, ma sono un regalo. E poi, sempre di non vi dico chi, per dire, cioè ho le mutande, lui le ha invertite i colori, ha fatto un mix delle mie due mutande, però apprezzate questa cosa. Poi abbiamo il costume improvvisato, questo è il costume dell'MCU in realtà, che indossa praticamente Tom Holland, lo Spider-Man di Tom Holland, quando è appena diventato Spider-Man, quindi si mette questa tutina, e in qualche modo poi richiamerà i colori del vero Spider-Man, della tuta che si cucirà alla fine, tanto di No Way Home, che finalmente è questa tuta, cioè quella più classica, che è più classica, non si può. Anche questo ovviamente nel film è ispirato a i primi costumi che Spider-Man si cuciva, quando magari tipo combatteva il Vrest, cioè faceva il Vrestler, diciamo, quindi è una sorta di proto costume di Spider-Man, dell'MCU ovviamente, quindi quella là. Costume della ESU, vabbè, questo è semplicemente Spider-Man, che va all'Empire State University, l'università che ha frequentato Peter, con però in testa la maschera, è quasi un Peter dopo le lezioni, c'è la rapina, si mette la maschera e corre a sventarla, ovviamente non l'ha indossato veramente un costume del genere nei fumetti, però qua l'hanno. È capitato che con gli abiti in borghese e solo la maschera, Peter dovesse andare a combattere i criminali. Costume Anti-Hawk, questo è disegnato apposta per il gioco, è il costume che lui indossa alla fine, l'abbiamo visto nel finale del gioco, per sconfiggere Dottor Octopus usa le sue stesse armi, perché queste sono le braccia di Hawk, praticamente il metallo che lui usa, tra l'altro preso dall'IM, i cattivoni della Marvel, e si veste con questo costumone per sconfiggere Dottor Octopus, quindi nel finale. Costume Nero, questo è un grande errore di traduzione, io l'ho detto anche ai traduttori, perché per un periodo ho lavorato come traduttore, io simpaticamente ovviamente ho detto ai traduttori, guardate che avete fatto un errore, perché loro hanno tradotto Costume Nero, che ci sta, però in originale è Dark Sweet, non Black Sweet, ma Dark Sweet, quindi costume oscuro, ed è il costume che ti dà la gatta nera quando trovi tutti i suoi gatti, l'abbiamo fatto anche questo assieme, lei ti dà questo costume, oscuro appunto, quindi un po' quasi malvagio, un po' da criminale, perché lei vorrebbe che tu tornassi a essere un ladro. Perché secondo me è un errore di traduzione a chiamarlo Costume Nero, perché per i fan del ragno, me e tutti quelli che leggono Spider-Man da anni, chi lo conosce bene, sa che il Black Costume, la Black Sweet, il costume nero è uno e uno soltanto, è quello di Venom, quando il simbionte Venom è andato addosso a Spider-Man, lui ha indossato il costume nero, quindi se tu nei vari costumi dici metti il costume nero, tutti sanno subito, chiaramente i traduttori probabilmente non lo sapevano, comunque Marvel ha detto sì, cioè le traduzioni vengono comunque approvate, quindi ci sta, poi gli americani magari non si sono fatti troppe domande, nel sequel, questo costume credo non lo vedremo, ma se c'è, spero che cambino, mettano costume nero effettivamente per Spidey nel caso, perché è una cosa un po' nerd, ma il vero costume nero è un altro. E non c'è in questo gioco, perché nel prossimo ci sarà Venom, quindi per forza, debutterà lì, Insomniac l'aveva detto, non abbiamo messo il costume nero, perché è un costume molto importante, vogliamo presentarlo come si deve. Costume Resilienza, Resilient, questo credo sia apposta per il gioco, sia un altro costume disegnato apposta per questo gioco, non è molto dissimile da questo qua, che aveva disegnato Alex Ross, quindi sono tutte varianti comunque del costume classico, un po' più armaturate, tra virgolette, non bellissimo, però ci può anche stare. Spider-Uk, questo è un altro Spider-Man alternativo, è una sorta di Spider-Man con i poteri, credo, di Capitan Bretagna, quindi molto potente, Capitan Bretagna esiste nei fumetti Marvel, i suoi poteri derivano da Mago Merlino, il vero Mago Merlino, ed è una sorta di Capitano America inglese, ma con anche il potere di fare la, di essere il guardiano del multiverso. Nella serie Spider-Geddon, che è quella che ha ispirato un po' anche il film Spider-Verse, il capo della squadra di ragni era proprio questo qua, Spider-Uk, quindi con dei poteri un po' multiversali. Scarlet Spider secondo, perché il primo era questo qua, se vi ricordate, no? Scarlet Spider, il primo ragno rosso. Il secondo ragno rosso, questo qua, è Kane. Kane è un secondo clone di Spider-Man, quindi non è Ben Reilly, però degenere, c'è una malattia che gli stava consumando tutta la faccia, lui stava proprio consumando. Alla fine della saga del clone, sembrava morto Kane, ma in realtà poi è tornato, come nella Marvel tornano tutti, lo sappiamo, ed è stato un eroe, per un po' di tempo è stato un eroe, tra l'altro era pure guarito, quindi era tornato ad essere un belloccio, era tornato ad essere uguale a Peter, perché in quanto clone è uguale a Peter, e indossava questo costume, chiamandosi ragno rosso, e facendo delle avventure da eroe. Devo dire, non è un costume che mi piace moltissimo, però un'ottima variante, io preferisco sempre l'altro scale. Eccola qua in realtà, prima non mi ricordo se c'è, questa è la prima Spider Armor, che Peter ha indossato per affrontare i duri, i nuovi duri, i duri sono uno dei primi super, gruppo di super cattivi che Spider-Man incontra, sono veramente quattro deficienti, c'è un gangster, Fancy Dan, quindi molto smart, c'è Montana, che è quello con il lazzo, c'è Bue, o Ox in originale, che è questo bestione, sono questi tre, deficienti, diciamocelo, poi arriva una nuova formazione, anche qua negli anni, primi anni 90, credo, o fino agli anni 80, e lui, per affrontarli, si crea questa armatura, la Spider Armor, questa armatura c'era anche nel vecchissimo gioco per la prima PlayStation di Spider-Man, a cui tutti siamo affezionati, quindi per il fatto che lì c'era, ogni volta che prendevi l'armatura diventavi grigio, ed era un riferimento ai fumetti, questa è la prima Spider Armor, è rimasta la prima e unica per tanti anni, perché la seconda che è questa, la terza e la quarta, che vi ho fatto vedere, questa è la terza, e la quarta c'era, aspetta, aspetta, è quella che ha indossato, eccola qua, sono arrivate tutte nel giro di pochi anni, per anni e anni l'unica Spider armatura era questa qua, molto kitsch, molto figlia del suo tempo, e quindi c'è un po' di affezione, ma non è sto gran costume. Iron Spider Armor, questa è quella di Civil War, durante Civil War, nei fumetti, Peter decide di allearsi a Tony Stark, perché Tony Stark gli dice, io ti proteggo, puoi anche rivelarla la tua identità segreta, con me stai al sicuro, ti do anche questo nuovo costume, anche questa ha le braccia che escono, è quella che poi ha ispirato nel film, questa qua, praticamente, nel film dell'MCU, è un'armatura progettata da Iron Man, con i colori di Iron Man, ovviamente perché Tony Stark è un egomaniaco maledetto. Costume dello Spider Clan, questo, che fra l'altro ha anche diverse dimensioni, cioè nel gioco sei più magro e più piccolino, e sei chiaramente fuori dal mondo, cioè non c'entra nulla questo Spider-Man, con la grafica realistica del gioco, però fa riderissimo andare in giro così. Questa è il costume di Marvel Mangaverse, c'è stato un periodo in cui la Marvel ha fatto delle storie ambientate in questo universo, il Mangaverse, e questo è lo Spider-Man di quell'universo. Spider-Clan perché lì, per diventare ragno, sei in un clan tipo ninja, ti passano i poteri, diciamo, in maniera magica, e niente, ottieni i poteri di ragno, c'è lo Zeo Ben, c'è Goblin, che è tipo un samurai malvagio, con la maschera da oni, da demone, bla bla bla, allora Marvel Mangaverse non è stato un successone, io devo dire che mi ci divertivo, però. Aaron Eichmann Armor, questa è stata disegnata da Aaron, ah sì, questo è Aaron Eichmann, è un personaggio, credo sia uno Spider-Man futuristico, di un futuro, fa parte sempre dei vari ragni alternativi, e se non sbaglio non ha poteri, è tipo Iron Man, è proprio un'armatura quella che indossa, con i ragni alternativi sono preparato, ma relativamente, perché sono un bordello, sono usciti fra l'altro, negli ultimi anni sono esplosi, perché con il successo del film ne hanno sempre più fatti, quindi è un po' un bordello. Oh, Spider-Man Cyborg, durante un'avventura degli anni, degli anni 90, perché è originato da Eric Larson, quindi sì, siamo anni 90, già a posto, questo look mezzo cyborg, dove per evitare che il braccio gli andasse in canta, in una bella del genere, gli montano sopra questo braccio, e vabbè, questo look veramente tamarro, l'ha tenuto praticamente solo per quella storia, però è entrato nella leggenda, perché era trash. Una specie di Spider-Robocop, esattamente. Costume Ragnoverso, questa è una figata, questo è il costume di Spider-Man del Ragnoverso, quindi, è lo Spider-Man, quello diciamo un po' invecchiato, che vediamo in To the Spider-Verse, infatti, come vedete, anche le, la dimensione del corpo è diversa, cioè le proporzioni non sono esatte, se noi mettiamo, lo vediamo qua, vedete, pazzo, gli altri costumi hanno le proporzioni giuste, come vedete questo, vedete più bombato, e questo è più magro, quindi hanno anche cercato di adattarsi, quella di Insomniac, alla grafica dei media, dove hanno preso i vari costumi. Per chi fosse arrivato adesso, comunque poi questa roba la ricarico su YouTube, faccio uno spezzoncino con la lista di tutti i costumi. Vabbè ragazzi, costume Ragnatela, è stato chiamato, perché era Ragnatela in sovrimpressione, ma lo sappiamo da dove arriva, Semraimi, Semraimi, super iconico, super strano, devo dire che io lo apprezzo con nostalgia, ma non sono mai stato un suo grande fan, perché quella ragnatela spessa, l'idea che questo in una notte si sia cucito sta roba, a me faceva impazzire. Però erano gli anni 2000, ci voleva un po' di argento, e quindi Semraimi ha detto sì a questo costume. Poi abbiamo il bombastic bugman, il bombastico uomo sacchetto, semplicemente a un certo punto Peter non aveva più il costume, ve la faccio molto breve, i Fantastici 4 gli hanno detto toh, tieni una delle nostre tute, e lui gli ha detto, ho capito Franco, ma qua è bella la vostra tuta dei Fantastici 4, ma io copro anche il volto, come faccio? E quindi Johnny Storm mi fa, senti, mettiti sto sacchetto in testa, e non rompere le panni. Quindi lui se n'è andato via, e insomma è stato super nominato il bombastico, bombastic bugman, uomo sacchetto. Negli anni è tornato l'uomo sacchetto in diverse varianti, una volta l'ha rifatto anche con un sacco di juta, ogni tanto torna, ogni tanto quando non ha una maschera Peter va di sacchetto, questa cosa è molto molto divertente. Questo è sempre legato ai Fantastici 4, questo è il costume della Fondazione Futuro, è stato un periodo in cui i Fantastici 4 hanno smesso di essere i Fantastici 4, quindi FF, Fantastic Four, e sono diventati la Future Foundation, quindi sempre FF, in italiano non reggeva, perché è F1 purtroppo. Fondazione Futuro era una fondazione fatta con tutti i soldi che c'hanno, perché comunque sono ricchi i Fantastici 4, per addestrare le generazioni del futuro, una sorta di think tank, come si dice, cioè prendiamo i bambini geni, i bambini incompresi, perché sono troppo geniali, e li cresciamo per aiutare l'umanità. Nella Fondazione Futuro poi hanno militato anche i figli di Fantastici 4, Valeria Richard, eccetera, e avevano questo costume, andavano in giro con questo costumino, con la F nera, lui si è unito a loro per un breve periodo, Spider-Man, e gli hanno fatto il costumino ad hoc, niente sacchetto stavolta, gli hanno dato il costume bianco, però l'hanno creato i Fantastici 4, quello della Fondazione Futuro. Costume potenziato, questo in realtà è sempre, questo è quello di No Way Home praticamente, il costume, Far From Home, scusate, mi confondo sempre, è il secondo costume di Peter, è quello che si costruisce lui, in Far From Home, insomma, sempre MCU, sempre con le, queste robe qua, esatto, esatto, bravo Tony, grazie, si era unito nel 154 quando era morta la Torcia Umana, perché mancava un quarto membro, quindi hanno richiamato Spider-Man, che ogni tanto era così, e gli hanno dato il costume della Fondazione Futuro. Comunque questo è sempre Tom Holland, altra variante dell'MCU, ovviamente l'hanno dovuta inserire. Costume furtivo, scimmia notturna, Far From Home aveva fatto un successo della Madonna, quindi hanno buttato dentro anche la scimmia notturna. Quando Tom Holland a Venezia deve travestirsi, ma non ha il suo costume, perché l'ha lasciato chissà dove, tac, scimmia notturna, vabbè, ci sta, un po' Spider-Man Noir, ma scimmia notturna. Abbiamo visto Sam Raimi? Ecco il primo costume di Andrew Garfield, il costume Amazing, detto anche il costume pallacanestro, perché sembra fatto veramente del tessuto di una palla da basket. Allora, non lo detesto, devo dire che è un po' strano, hanno cercato di fare un costume che fosse quello originale, ma un po' diverso, un po' più moderno per l'epoca. Secondo me il contestualizzato al film ci stava anche. Mi piacevano da matti le scarpe, avevano molto senso delle scarpe così, quasi da ginnastica. Non c'è il secondo costume che lui indossa, perché comunque alla fine era letteralmente questo. Un po' più magro, un po' più delinea, un po' più fine. Infatti magari nel secondo gioco arriverà, per adesso ci hanno messo solo questo, che è quello molto più diverso. Se no abbiamo troppe varianti di sto costume alla fine. Perché mettersi quello là in effetti quando è quello classico? Cavaliere Arachnide, questo, questo credo sia nato in realtà prima per il gioco, poi forse l'hanno fatto debuttare anche nei fumetti. È una versione super sentai di Spider-Man, cioè tipo Power Ranger, tipo telefilm giapponese, cartone animato giapponese. Quindi lui che proprio diventa il cavaliere Spider-Man e gli vengono i pezzi di armatura addosso, me lo immagino così. È una versione super super folle, ovviamente molto molto jap di Spider-Man, ci sta, folle, e ripeto, dovrebbero averlo creato apposta per il gioco, se non ricordo male. Così anche come il costume ipercorazzato. Queste sono un po' di creazioni fatte apposta per il gioco, perché ogni tanto per celebrare alcuni momenti hanno chiamato dei disegnatori, hanno chiamato della gente e hanno detto fatelo. era l'ultimo costume fra l'altro prima dell'ultimo aggiornamento perché poi il gioco è uscito su PS5 ed è uscito No Way Home e essendo uscito Spider-Man No Way Home hanno detto vabbè, prima di annunciare il sequel di Spider-Man che arriverà finalmente, l'abbiamo scoperto alla fine del 2023, hanno tirato fuori i costumi di No Way Home. Quindi il costume ibrido, quindi vediamo il costume di un mix fra il costume classico e quello che gli aveva costruito Tony Stark e quello che ha comunque in No Way Home e poi ovviamente il costume nero e oro che la gente è rimasta a mesi a speculare perché indossarsi questo costume in realtà è questo costume risvoltato, si vede nel film lui guarda l'altra parte e dice questa parte non è sporca e lo risvolta c'è la gente che non l'ha capito c'è la gente che lui ha il costume macchiato di verde e dice forse può funzionare quando vede che lo rigira dall'altra parte quindi è lo stesso costume infatti vedete che ha tutti tutti quei simbolini quelle striscettine sono tutte le cose da applicare perché in realtà andrebbero sotto non dovrebbero vedersi infatti ha la stessa traccia vedi oro è il contrario ma la gente non l'ha capito lui ha letteralmente spolpato il suo costume e ovviamente sul braccio ha il dispositivo per catturare i super criminali che gli ha dato Dottor Strange appunto in No Way Home una bella sfilza di costumi tanti 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 Insomnex è impegnata questa cosa la faremo anche quando avremo finito Miles Morales perché ci sono tanti costumi anche lì ne manca qualcuno anche molto figo secondo me che Spider-Man ha indossato nella sua carriera il costume nero su tutti perché ovviamente Venom l'ho detto debutterà nel prossimo e anche il secondo costume di Ben Riley che era una sorta di versione un po' più allungata di questo con tanto dei polsini meravigliosi che poi ha indossato anche Spider-Girl la figlia di Peter Parker e Mary Jane di un futuro alternativo e non c'è nemmeno quello credo che li vedremo però nel prossimo nel prossimo gioco lo spero e insomma con Spider-Man ci rivediamo in autunno perché è autunno 2023 ma c'è Miles Morales adesso quindi mi raccomando settimana prossima zona natale faremo anche Spider-Man vi ringrazio per avermi ascoltato in questa lunga disamina costumosa però mi piaceva fare questo momento moda e diseminare assieme a voi tutti i costumi di Spider-Man ovviamente del gioco di Insomniac ma il migliore resterà sempre lui il vero uomo ragno il vero uomo ragno di quartiere questo costume è fantastico creato negli anni 60 e mai cambiato tutti gli eroi Marvel hanno cambiato costume Tony Stark le armature Torri le varie cose insomma i vari tipi di costume sgardianano col pelo senza pelo con la barba l'elmo diverso Spider-Man ha cambiato tanti costumi ma tutte le volte che torna a quello principale ci reinnamoriamo tutti perché è una figata veramente fotonica quindi viva Spider-Man viva i costumi di Spider-Man vi ringrazio mi raccomando follow al canale commentate qual è il vostro costume preferito tutto quello che volete mi raccomando mi raccomando mi raccomando ciao ciao